Radio Firenze Viola Tweet Viola Tweet A cura di Fiorentina1.com La voce del tifoso Viola Un caloroso buongiorno a tutti i nostri ascoltatori Partiamo con i titoli dei quotidiani in edicola La Gazzetta dello Sport Crocevia Fiorentina tra presente e futuro La Nazione ora o mai più Il Corriere Fiorentino Europa l'ultimo tram Corriere dello Sport Stadio Chiesa C'è La Repubblica Pioli e il futuro Vigilia in silenzio ma è tutto deciso Tutto sport nel nome di Astori Si giocherà anche a Betlemme L'ultimo tram per sperare nell'impresa Europa Passa da Cagliari Pioli deciderà la formazione durante la rifinitura di oggi I dubbi più grandi sono in mediana Con Benassi che sembra sicuro di un posto da titolare Al fianco del goliador Viola si pensa Dabbo e Norgaard insieme Oppure uno dei due con Gerson Mezzala Per Fiorentina1.com Riccardo Barlacchi La voce del tifoso Viola